Credo che ci siano diversi motivi. In generale la regione Emilia-Romagna ha avuto sempre storicamente un'attenzione alta ai temi dell'infanzia e dell'istruzione in particolare. A Modena questo è ancora più evidente e qui a Modena, per esempio, sui temi dei disturbi specifici dell'apprendimento, su questo tema è da ben più di 14 anni che si fanno interventi di screening nelle scuole, soprattutto nelle classi prima e seconda delle scuole primarie, per cui il dato che si rileva direi che non è nient'altro che il frutto di questo lavoro capillare. D'altra parte il dato che lei citava, del 3-2% del dato nazionale, è un dato che si riferisce al Consensus Conference del 2010 e che quindi era prima o a ridosso della legge 170, che è appunto del 2010, sui disturbi specifici dell'apprendimento. Da quella data in poi tutti i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in tutta Italia hanno visto più che raddoppiare, triplicare anche più i dati sui disturbi specifici dell'apprendimento. Infine, cito il dato epidemiologico che è contenuto nel DSM-5, che è del 2013, che è il sistema di classificazione dei disturbi mentali e comportamentali dell'associazione degli psichiatri americani, che sostanzialmente va in parallelo, con qualche piccola differenza, con l'ICD-10, che è invece il sistema di classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che i disturbi specifici dell'apprendimento sono tra il 5 e il 15 per cento della popolazione scolare, in età scolare. e quindi noi siamo